Ben tornare e ben trovati, per questo dono ne ho trovato, mettiamo un nuovo video in presa, un nuovo su Ghost Sushi, ma allora si sto mangiando ora delle patatine, sempre le patatine alla papria della live scorsa, nell'ultima live che ho fatto in teoria non si dovrebbe sentire, ma al massimo non troppo smetto Allora, abbiamo fatto la storia di Shikawa del sensei, di Shikawa, ho fatto la storia della signora un po' incazzata, giusto un pelo Dovevo andare a fare il fabbro, salvare il fabbro, e in realtà c'è anche quello dei cappelli di paglia Però da quello che ho capito, mi conviene andare a fabbro, mi conveniva fare il fabbro subito perché mi dava un'armatura direttamente Non lo so, probabilmente ogni singola missione mi dà determinate cose sbloccate e lo dice Guarda quella cosa che mi è stata detta, che quando ho attaccato quel nemico alle spalle, c'è un bando gli addosso con la spada, l'ho ucciso Che mi ha detto, ha fatto la scena di lui e lo zio che gli dice, non rompere mai questo giuramento Una cosa del genere, lui dice, mi spazio, non so se è una cosa della storia o cose così Però non me ne può fregare di meno, sinceramente, perché A quello che so Il gioco non te cambia più di tanto la cosa Ed è impossibile, a meno che tu veramente non ti impegni al 100%, se è già tutto pronto, forse in Unicam Plus Veramente puoi fare tutto e ci vado faccia a faccia, ok, se no non credo Ehm, tu guardi Alla cosa? Alla cosa? Alla cosa? Grazie Dove sta? Come ho detto funziona il mio lino È normale che Di qua dove andare? Susanoo Dìga un po' di me un po' di me racconti i miei oh no, lo prendo dimmi tutto lo prendo lo prendo che cosa stai? non ho capito mi chiede mi chiede in Tshima 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 l'argomento in Tshimi si non si 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 Qua' no 稲妻の獣を果たしあたう者あらば 重則呑みぞとて ヨヒト 対馬第一の早技の武者を頼みけり 重則 刀を持って余人に遅れを取らず 編み出したる秘剣を試練一銭と称す 人の眼にて見ることあたわざる技なり 重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり 砂が捕らえる獣はし 獣を二人と渡り合い 稲妻に砂は灰となり 木は炭となり ここぞとばかり重則は 試練一銭鳴り切りで 最後の獣がはつるほど 雨雲されて空は晴れ 津島は子供の中に蹴り その後 重則隠れすみて 出会う者も稀なり たくさんの獣を見ることあたわざとなり 一銭の奥義を伝う 大風が来るとき 刀をシゲノリのいおりに刺さぐ 彼の弟子を知る弟子の また 獣のシーゾケントの思い なればなり おかえり おかえりの狙いは 刀のシゲノリの技の おかえりの狙いは 射撃に渡すわけには行かぬ どっちへ行ったら 女が走の方へ逃げると 射撃も し待つをつけさせれば おかえりの狙いは 刀のシーゾケントの モンジョニー あなたは トイッチ や Ah, sono io che segui te, non te che segui me Ok Ah vabbè Ah vabbè Ah vabbè Cosa 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 Grazie, te l'abbiamo detto noi Ecco come il codice di ce l'anno fa, vendette, cazze e mazzi Ma dove sta manna Posso riblocco di chi? Eh, sono tanti Cosa Cosa Però probabilmente perché le ho colpe di tipo multiple Ed erano Cosa 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 Seralmente Di Cosa Tampate Un bel Cosa Cosa Un pozzo De cavallo Due per cavallo E via Da che parte? Vediamo che penso Che questa storia del confronto Serva più che altro Per esempio Come fa a sapere Come fa a scassino Le cose? Come fa a sapere Queste cose? Ah? È una tomba? No Una specie di cosa Per attaccare un rampino Eh? Scusate Oh Vado un attimo Parare una cosa Ho capito i fiori bianchi Forza Fai le bianchi so raro Cioè se prova Sto cacchio di uccelli Aspe Ma ora che mi sono ricordato Non è la madre Gli uccelli Gli aveva detto Il padre è nel vento Tu madre In me c'è Nel Negli uccelli Nel cato degli uccelli Ah no Non è Sa fosse qui Ha fatto la cosa Dei trenchini C'è una maniera C'è una maniera Di kakutsushi Dietro i cammini Del fuoco What? Così è gratis? No Che hai matato? Perché non posso usare Ah no Perché mi sa che Non ce l'ho l'altro slot Ah no Si lo posso Ma che vuole Dico Stavo fino a sei Amuleti Ti sei fatto pure male Guardate E qua Gli alberi Con le foglie bianche Te volete niente Aia Devo prendere Quella cosa Che mi Gli duce Quanto prendo Quando ho toccato Perché veramente Se no Morisco Kagutsuchi Erg Kagutsuchi Oppure Com'era il suo nome Quello intero Quello antico Io dico antico Ma Non è che Kagutsuchi Non mi cotto No I Ino No Kagutsuchi Non mi cotto Cerca l'arbero Dalle foglie bianche Ma fa facile In mezzo a una foresta Eccoli Stupendi Giusto Il tempo giusto Per un duello L'ultimo sangue Cerbio Come sta Non li vedo No Nessun confronto Stavolta Insomma Ridono Nessun confronto Ce n'era uno Nessun confronto Immorti? Non ... ... ... ... ... ... ... ... Quello è stato il tuo errore Non so quante frecce mi rimangono Non so tre o due Figurati Merda non c'ho l'assassinio multiplo Lo so che sono vicini Avete stav e zitti con sto corno Avete rotti i coglioni Non so Come on Eh però io ho schivato cazzo Ma un Ma una cazzo di possibilità di Tenere d'occhio il nemico Non si attaccio al confronto E vaffangiro Lo fecavolate Shut the fuck Che cavolo Se invece venivi dietro a me Te te salvavo Come eravamo l'erba alta Ero io a salvo Non so No non è tanto lontano No volevo più che altro Cambiare Volevo semplicemente Cambiare in realtà L'equipaggiamento Da ninja No siamo in piena epoca samurai Non si credo siamo nel Epoca Sengoku Siamo probabilmente Siamo probabilmente Non ho visto Perché c'era una data Però siamo nell'epoca samurai L'albero è bassa Ah quell'albero Io sono senza cose per curarmi Vabbè Andrò a giocamera bene Te pareva Oh fanculo Non c'ho voglia Non c'ho voglia Di solito lo set lo faccio Ma non c'ho pazienza No Venite c'è Veniteci un altro po' tutti insieme Non lo so Io volevo fare un'altra cosa Ma lui come al solito Direzione gli attacchi Avanti Io perché sbaglio Perché io devo attaccare Con il triangolo Ma io non attacco Con il triangolo Sono abituato a essere veloce Non un forte Nei giochi Non è che c'è uno Che fa po' di grazia Per darmi le cose Ma è la gioia Ah shit Ma si da a duello Sì 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 E lascia molto scoperto con l'attacco Sì 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 Allora forse da aver capito però come funziona Sì Che ha attirato il fulmine Anche se penso sia una cosa molto rara Ecco questo lo accetto Questo è un signor di rispetto buono per me Del codice C'è una barca Ok Cominci a capire Allora quando questi Quando ci sta il nemico che mi fa Un fendè Un colpo Che c'è la barra La cosa che si illumina Se io lo paro nel momento giusto C'ho la possibilità di fare un controattacco Praticamente Sono ancora le navi mungole quelle Oddio C'è ancora una flotta fuori Ok Molto bene Oh madonna Gosaku Yarikawa Sei spari di Kojiro Kojiro Ah Intendi quel Kojiro No che cazzo sto a dire Guarda è Sakagi No Sasagi Kojiro Non è lui Infatti se scusami Sì possiamo potenziare roba Ma Devo andare Devo andare Devo andare a un Fabbro Devo andare a un Fabbro E vi è stato il preandante Aumenta I minitori per il fatto Quando su una bambana In piedi si chiara Più di 10% Una volta che ho manovato Si entra in interlocinanza L'armatura dell'eroe di Tsushima Che è quella Del DLC Non me ne frega Possiamo andare Un attimo Da qualche parte A potenziarci Ma non so dove Possiamo fare Teletasporto Rapido Sì Posì Mi voglio Teletasporta Qua Sì Gli uccelli Bianchi No Finora Sono solo uccelli dorati Che mi hanno portato Almeno due di essi Quando sono riusciti A seguire Mi hanno portato In un cazzo Di Terreni del mare Che prima o poi Mi piacerebbe tanto Provare Di persona Veramente Allora Potenziamo Le cose Ma dove Devo andare Per potenzialare Le cose Ma tu sei Un mercante Ma tu sei Ma non serve Ve Ah quindi è una cosa Tipo Più fai cose Più aiuti Piacere Eccetera Maschi Verino Furiato Vedo la Fira Ah Ah questa Ah No Non mi piacciono Le maschere A parte Quella Del Allora Fabro Fabro Lo so Che c'è Il potenziamento Dalla spada Oddio al Fabro Sento il Fabro Oh eccoci qua Da quello che so Che spada Se possono Non è che se Migliorano Se Da tanto È Quella corta Ok Del bacciaio E qua Che palle Vediamo Vediamo che basta Vediamo che basta Poi il Per ottenere ulteriori toni Ho capito Basta Beh Ho detto che lo potevo Devo trovare Più provviste Non lo so Dobbiamo andare Dovremmo andare avanti Con questa Facciamo le cose secondarie Man mano No Aspetta